Quando ero sindaco di Casamicciola negli anni 2002-2007 già posi questo problema, attivai anche dei controlli, ci furono delle proteste forti, non so se le ricordate, addirittura con uno sciopero da parte degli autotrasportatori, intervenne la prefettura. Si trovò all'epoca un modus operandi, si trovarono più che altro dei punti d'incontro, d'intesa, dove anche gli autotrasportatori capirono che bisognava, io emisi un'ordinanza, che non so neanche se ancora valida, con la quale si tenevano conto di tutte queste problematiche. Solo che dopo, cosa sia successo sul comune di Casamicciola, che ripariamo, il tratto del Castiglione interessa interamente il territorio casamicciolese. Dopo cosa è successo non lo so, so che non ricordo a memoria che siano stati mai fatti controlli in questi due punti. Ritengo da pubblico amministratore che invece vadano fatte rispettare queste ordinanze, perché ripeto, non sono ordinanze che limitano o cercano di alleviare il traffico, ma sono ordinanze che cercano di evitare catastrofi e quindi bisogna farle rispettare, fino a prova contraria e fino a che non verrà un altro organo e dirà le condizioni sono cambiate, sono stati fatti dei lavori per cui non ha più motivo di esistere quell'ordinanza o chi all'epoca decise che quell'ordinanza andava emessa sbagliato va revocata. Però tutta questa attività finora non è stata fatta, magari chiederemo di farle delle verifiche.